Ci viene assegnata una rete capacitiva costituita da sei condensatori collegati come indicato in questo circuito e ci viene chiesto di calcolare la capacità totale misurata ai nodi A e B generata da questi condensatori così collegati. Per risolvere questo esercizio dobbiamo partire da questa parte del circuito dove andiamo a riconoscere la presenza di due condensatori collegati in serie. Come vediamo questi condensatori sarebbero attraversati dalla stessa corrente alternata ad esempio iniettata in questo punto. Possiamo a questo punto calcolare la capacità complessiva generata da questo collegamento in serie ricordando che la capacità di due condensatori collegati in serie è pari al prodotto delle due capacità diviso la loro somma. E quindi se indichiamo con C1 il condensatore da 30uF e con C2 il condensatore da 60uF avremo da moltiplicare 30uF per 60uF e dividere questo prodotto per 30uF più 60uF. 30 per 60 fa 1800 e questi sarebbero microfarad al quadrato che abbiamo moltiplicato queste due unità di misura mentre a denominatore abbiamo 30 più 60 che fa 90 e sono microfarad. Qui si sommano queste due grandezze. Ora questa divisione è abbastanza semplice da fare 1800 diviso 90 fa 20 e microfarad al quadrato diviso microfarad fa microfarad. Quindi abbiamo calcolato la capacità serie di questi due condensatori che risulta essere pari a 20 microfarad. Questo ci consente di sostituire questi due condensatori con un unico condensatore di capacità pari a 20 microfarad. Possiamo quindi continuare ad analizzare ora questo circuito che ai fini del calcolo della capacità totale misurata in nodi A e B è del tutto equivalente a quest'altro circuito che è quello assegnato. Ora riconosciamo che questi due condensatori sono collegati invece in parallelo poiché sono collegati a questi due nodi. Entrambi quindi sono sottoposti alla stessa differenza di potenziale. Bene nel caso di capacità collegata in parallelo sappiamo che la capacità complessiva indicata qui con C con P è pari alla somma delle capacità dei due condensatori collegati in parallelo. Quindi non dobbiamo far altro che sommare 25 microfarad e 20 microfarad e che fa 45 microfarad. Questo calcolo ci permette di sostituire ora questi due condensatori con un unico condensatore da 45 microfarad. Possiamo dunque ora continuare l'analisi di questo circuito che, come abbiamo già detto, ai fini del calcolo della capacità totale in nodi A e B è del tutto equivalente a quest'altro circuito. Notiamo ora che questo condensatore da 90 microfarad risulta in serie con quello da 45 microfarad e quindi possiamo riutilizzare questa formula che è la formula della capacità serie di due condensatori per l'appunto collegati in serie. Dobbiamo dunque moltiplicare le loro capacità 90 per 45 e dividere per la loro somma 90 più 45. Se eseguiamo questo calcolo viene fuori un valore di capacità pari a 30 microfarad. Questo ci consente di sostituire questi due condensatori con un unico condensatore da 30 microfarad, qui rappresentato. E proseguiamo ora l'analisi di questo circuito osservando che ora questi due condensatori sono collegati in parallelo. E per la formula della capacità parallelo di due condensatori collegati in parallelo abbiamo che dobbiamo sommare 10 microfarad e 30 microfarad, ottenendo quindi una capacità complessiva generata da questo collegamento in parallelo pari a 40 microfarad. Giungiamo ora ad un circuito molto semplice costituito dal nostro condensatore da 60 microfarad e dalla capacità di 40 microfarad derivante da questo collegamento in parallelo. Queste due capacità sono collegate in serie, quindi adottiamo questa formula moltiplicandole 60 per 40 e dividendo questo risultato per la loro somma 60 più 40. 60 per 40 è pari a 2400 microfarad al quadrato, 60 più 40 microfarad è uguale a 100 microfarad e il loro rapporto quindi è pari a 24 microfarad. Bene, con questo abbiamo dunque trovato la capacità vista questi nodi A e B che è pari a 24 microfarad, ma questo circuito è del tutto equivalente a questo circuito ai fini del calcolo della capacità totale vista ai nodi A e B. Possiamo dunque rispondere all'esercizio dicendo che la capacità totale vista ai nodi A e B questo circuito è pari a 24 microfarad. E con questo abbiamo risolto l'esercizio. Grazie per l'attenzione e alla prossima!